eccole qua in mezzo alla strada tranquille con gli aironi bianchi se ne sono un sacco conto almeno 11 vediamo se riesco ad avvicinarmi una seguita dall'altra chissà se è una coppia mi ha preso il volo una e stanno volando tutte nella stessa direzione ecco noi un'altra forse le ho disturbate si sono fermate nel campo più avanti e stanno facendo gruppo più avanti adesso le lascio in pace le ultime due che vanno a giungersi al gruppo secondo me stanno proprio viaggiando assieme ed eccole là in fondo in mezzo al prato andiamo a giungersi al gruppo